C'è la rete, gol di Madir di testa a Marocco che passa in avvantaggio, Madir ha portato in avvantaggio il Marocco, bello lo stacco di testa, imparabile, impensibile per il portiere 1-0 per il Marocco, ecco il cross di Javrane, rivediamo, lo stacco di testa da parte di Madir 1-0 per il Marocco Indoppiamente era la logica conclusione, segnare la rete del Marocco prima o poi doveva farlo è stata una bellissima azione anche quella di prima del tertino di Jean ...per un gol a zero, c'è un fallo commesso su Feroui, calcio di punizione per l'Algeria Algeria che sta accelerando i tempi ovviamente, Mengaria, Merzekan in azione Lancio in dirizzato su Diamund, chiude ancora una volta la difesa del Marocco con Pias riprende Merzekan, l'invito è per Yaki, Diamund e Yaki in area, attenzione l'intervento l'uscita e il gol di Bellumi, ma è concetto che sia valido il gol di Bellumi e il pareggio della formazione algerina che giunge al 42esimo del secondo tempo, l'Algeria quindi pareggia con Bellumi, ecco il gol di Bellumi, la schiacciata di testa a terra del pallone, imparabile anche questa volta per Azmi, il lacrosse di Diamund e il colpo di testa di Bellumi risultato di parità a questo punto, gli mancano due minuti alla conclusione e quindi sarà interessantissimo, Gagliano Errati dovrebbe trattarsi di Elgaref per la formazione del Marocco in effetti è lui, Elgaref contro Drid, è il primo calcio di rigore per questa finale valevole per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa, Elgaref rincorsa dentro e parata, ma deve essere ribattuto, deve essere ribattuto il calcio di rigore perché il portiere Drid si è mosso antitempo, speriamo di poter rivedere il contesto poco sintatico di Drid nei confronti dell'arbitro, forse meritava a questo punto l'ammunizione, vedete Drid è in effetti si è mosso proprio qualche istante prima, ma l'arbitro direi che è stato molto fiscale in questa occasione, chiaramente. allora ancora Elgaref, tutto da rifare quindi, Elgaref contro Drid, ora Elgaref prende una lunga rincorsa quindi basterà di potenza, lunghissima rincorsa di Elgaref, attenzione ancora il destro e para, e fa rifare ancora l'arbitro, ripetere per la terza volta il calcio di rigore adesso siamo esagerati, adesso si sembra un po' esagerato questa ripetizione, in effetti poteva passare per il primo intervento, ma sul secondo non mi è sembrato proprio un nuovo e adesso ci sono le professe da parte di tutti i giocatori dell'Algeria, e vedete che a Litar, l'arbitro dell'incontro, sta per estrarre un cartellino giallo, poi ha rinunciato un po' di bagarre ovviamente, che si è scatenata da parte dei giocatori algerini rivediamo intanto nel secondo, calcio di rigore, ma direi che questa volta il quartiere si è mosso proprio nel momento in cui Elgaref ha calciato, quindi non doveva sicuramente essere ribattuto. Allora ci siamo alla ripetizione del primo calcio di rigore per la terza volta, ancora Elgaref, e questa volta vedete che il quartiere si mette sulla stessa, il quartiere le dritte, ancora Elgaref in rincorsa, parte Elgaref, attenzione, tiro e spalla che è fuori, bagna Elgaref quindi il primo calcio di rigore, errato quindi il calcio di rigore di Elgaref, tiro molto potente, Derretto ha sbagliato per due volte. Meglio così perché poteva succedere un pronto epilogo a una partita che in fondo è stata molto corretta e molto sportiva, l'arbitro è stato molto fiscale, ha fatto questa ripetizione, il terzo tentativo sbagliato, penso di aggiunto così. È la volta di Iacchi, attenzione per l'Algeria, e gol! Iacchi quindi realizza per la formazione algerina che passa così in avvantaggio per una gol a zero, preciso, precisa la conclusione di Iacchi, il numero 8 della formazione algerina, quindi l'Algeria a questo punto è in avvantaggio per una gol a zero, Elgaref ha sbagliato, è la volta di Benabisha, il numero 18 della formazione del Marocco, e Briz ancora tra i pali, pronto Benabisha che basterà con il destro, tiro e para il portiere eccezionale, Briz, parato il secondo rigore per la formazione del Marocco, quindi stiamo sempre sull'1 a zero per l'Algeria, ma con l'Algeria che ha a questo punto un grosso vantaggio, un vantaggio doppio. Ah, il valore dei portieri si è visto anche nel percorso della gara. Certo, poi ricordiamo Ancona, ricordiamo belli, i due portieri del Camerun che sono praticamente i migliori, no? Cioè, portieri che giocano in Francia dell'Algeria. Intanto c'è Diamun, seguiamo Diamun contro Atmin, e il secondo calcio di rigore per l'Algeria, la battuta di sinistro, alto, taglia, taglia Diamun. Si dimezza quindi il vantaggio per la formazione algerina altissimo oltre la traversa, il suo sinistro, e quindi stiamo ancora sull'1 a zero, sempre in favore della formazione algerina. È il terzo calcio di rigore, ed è pronto alla battuta Guadani. Guadani per il Marocco, posiziona con molta cura il pallone sulla gischetto, osserva Drid, la che in Guadani inquadrato, non trova l'esatta posizione, si muove il pallone. Lunga la rincorsa di Guadani, sinistro e gol, 1 a 1, gol quindi di Guadani, che riporta in parità alle torsi dei calci di rigore, ma ricordiamo che l'Algeria è in vantaggio numerico. Primo errore di El Gareth, il gol realizzato dall'Algeria con Iachis, poi una parata sul rigore di Benadiscia, un rigore sbagliato da Diamun e il rigore invece realizzato da Guadani. è in azione Merzecane, l'Algerino Merzecane, rincorsa col destro, tiro no, Algeria 2, Marocco a 1 e siamo alla battuta ora della quarta serie dei calci di rigore. È Tigiani che sta per effettuare la battuta del quarto tiro dal gischetto. Tigiani la numero 2 della formazione del Marocco. L'arbitro fa rettificare la posizione della pallone, ecco ancora inquadrato Trizza. Tigiani colla, senza ricorsa sulla sinistra del portiere, situazione di parità ma vantaggio numerico per l'Algeria che ora sta per effettuare il suo quarto tiro dai 16 metri. Vediamo chi sarà il battitore della formazione algerina. è Saif il 19, rincorsa con il destro, una pinta che spiazza il portiere Asmi ed è il gol per la formazione algerina che ritorna in vantaggio. Attenzione perché il quinto calcio di rigore è importantissimo. a questo punto sul piede di Timumi c'è la possibilità di riportarsi in parità. Timumi quindi alla battuta del quinto calcio di rigore per la formazione del Marocco. Timumi realizzerà, sarà decisivo, l'ultimo calcio di rigore che dovrà battere l'Algeria. Se invece Timumi fallisce, l'Algeria è terza classificata in questa Coppa d'Africa. Pronta la rincorsa di Timumi, sinistro, tiro e gol. Decisivo quindi tre pari, tre a tre, decisivo quindi l'ultimo calcio di rigore per l'Algeria. Abbiamo rivisto intanto il calcio di rigore realizzato da Timumi. Vedremo ora chi sarà il battitore per la formazione algerina. Non riusciamo a individuare, ecco il numero 20, il suo tiro è la parata, ma viene fatto ripetere. Viene fatto ripetere, il 20 comunque era mengaria. No, non viene fatto ripetere, era stato un rischio da parte dell'arbitro. Si era inatteso che fosse una ripetizione. Mengaria quindi ha fallito in pratica il calcio di rigore. Situazione tre a tre tra le due formazioni. Ed ora si dovrà andare ad oltranza fino a quando una delle due squadre non fallirà il calcio di rigore. Vedremo ora a chi toccherà battere questa stessa realizzazione. Ricordiamo che nella partita di semifinale tra la Nigeria e proprio l'Algeria si è ricorsi a 11 calci di rigore per parte e l'undicesimo è stato fallito proprio dall'Algerino Bellumi, il giocatore più rappresentativo che fino a questo momento non ha ancora calciato. Questo avevi detto che i calci di rigore sono una lotteria, però dobbiamo... dovrebbe essere Amarui questo qui, no è Nader, Nader Astan una vistosa fascia al ginocchio quindi Nader il numero 20 della formazione del Marocco contro Dries è il sesto calcio di rigore. va a posizionare la sfera Nader è pronto l'attaccante Marocchino battuta con il destro e la parata di Nader ancora una... di Dries scusate ancora una volta quindi Dries riesce a neutralizzare un calcio di rigore ad un giocatore Marocchino siamo sempre sul 3-3 a questo punto è fondamentale che il prossimo giocatore algerino non sbagli il calcio di rigore uno se lo faccia parare questa volta dal portiere Atmi sul piede di Belgerbi quindi la possibilità di guadagnare la terza posizione in questa Coppa d'Africa Belgerbi è gol! l'Algeria dunque arriva a conquistare la terza piazza ai danni della formazione del Marocco ricordiamo quindi brevemente l'Algeria batte il Marocco per 5 a 4 dopo i tempi regolamentari dopo i supplementari e dopo 6 calci di rigore